Ti è mai capitato di sentirti a disagio o di sentirti intrappolato in un lavoro o in una vita che non senti giusta per te? Molto spesso le persone mi scrivono e mi chiedono come ho fatto a trasformare la mia vita passando dalla frustrazione di un posto fisso e numerosi insuccessi ad essere un networker professionista. È il motivo per cui ho deciso di scrivere questo libro come diventare un networker superstar. Qui trovi tanti anni di esperienza, di insuccessi, di cadute, di traguardi, di gradini saliti e di crescita. Qui non ci sono chiacchiere, non ci sono informazioni prese a caso. Qui dentro c'è tanta pratica, passione ed esperienza. Imparerai il metodo esatto per passare dall'insuccesso al raggiungimento dei tuoi obiettivi attraverso strategie offline e online. Quindi prendi subito la tua copia gratuita, clicca sul link, lascia i tuoi dati, il libro sarà presto a casa tua e sono certo che lo adorerai. Ciao da Mirko Lanfranchi